Ciao a tutti amici Tanzairini, benvenuti in un nuovo TanzLive! Siamo in partenza e venite con noi a Potenza perché siamo in partenza. Questa sera la serata è al Basilicos Club di Potenza e stiamo andando a Milano per lasciare la macchina nel parcheggio sotto la stazione. Soltanto che c'è un problema perché praticamente ho fatto la prenotazione del parcheggio online e ho pagato tramite Paypal soltanto che a differenza di tutte le altre volte non mi è arrivata la mail di conferma. Quindi speriamo che ci facciano parcheggiare se no dovrò lasciare la macchina da qualche parte dispersa per Milano. Parcheggiato al parcheggio 127 del parcheggio più brutto e ansioso di Milano. Come al solito e come vi ho detto anche nell'altro video, io sono sicura che qui ci sono i fantasmi. Che arancione! Una volta mi sono rimasti castrate le ruote di binari del... Addirittura! Tipo, you can see plus! Copioni! 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 Che che sfiga Allora abbiamo preso due cioccolate che sono state sponsorizzate dalla Perugina e che praticamente la donazione contribuisce alla raccolta alimentare, raccolta fondi per il finanziamento dell'attività del banco alimentare per la distribuzione di alimenti alle persone bisognose. Insomma, era una bella iniziativa, ho preso questa, rigorosamente all'arte, è stato carino, dai! Siamo a Napoli Centrale, non so se si vede praticamente lì, però mi sa che sono già finiti, c'erano tipo i fuochi d'artificio, però sono le 8 e non riesco a capire perché stanno già festeggiando, mi sa che qua festeggiano tutto il giorno. Ore 22, no ore 20 e 30, sto già dando i numeri. È già stanca la tanzo. Ho il fondo schiena più al lato. Siamo appena arrivati in hotel, adesso ci riposiamo un po', penso che festeggieremo qua alla mezzanotte e più o meno verso le 2 inizierò a suonare. E qua è bellissimo, proprio mi piacciono un sacco. Abbiamo fatto tutto il giro per arrivare in hotel ed è bellissima potenza, mi piace. Chissà, forse domani magari con l'alba riusciamo a vedere qualcosa. E niente, adesso mi farò una doccia, ci riposiamo un po' e poi si suona. Ma quanto manca il locale? Sono 5-6 milioni. Tutta questa fila arriva a suonare? No, prima è la pezzo, adesso va un po' meglio. Asking what's happening to me So you're scared and ain't no hate me Enough of the audience She sits a Coca-Cola She can't... Facciamo vedere, facciamo vedere, facciamo vedere chi ce l'ha, chi ce l'ha, chi ce l'ha, chi ce l'ha. Nel primo è, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Ok. Lei è già qui, tra poco partirà nel suo set. Ele Nardanzi, per la prima volta più a Potenza, i cuoricini che battono nella notte più lunga dell'anno. Applauso, forte, un applauso. Mister Carmetto di Geni, che tornerà nella seconda parte della serata. Pongo il microfono, per la prima volta più a Potenza non dico null'altro. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti. Quindi, devo far dire una cosa, buon 2018. Le mani saldano su per Erega. Tantina, 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 Tantina. Erega! Erega! E' la cuarta persona! E' il primo! Dove sono le mani? E' il primo! Dove sono? Vai andiamo! Sali, 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 sali! E' il primo! Hanno? Ho sunto ah vou ho 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 hu ho 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 vero Guiderai Guiderai Tu Guiderai Tu Tu Guiderai Amico, questo è il suono della musica dance, questa è la vostra musica, e noi stanotte, in questa prima notte del 2018, viaggiamo insieme, tutti in stile! Viaggia con noi, viaggia con noi, la musica del cuore, viaggio lungo, due decenni, gli anni 90 nel cuore, i cuoricini che battono le vostre mani a cuore, così! I primi, nel cuore, così! Il nostro caponanno, nel cuore, così! Signore, per la prima volta Elena Dance ha messo piede nel Basilico, vabbiamo voluto fortemente, vorrei un'altra, uno per lei! Rimani così, rimani così, posti sessile, l'energia, creai, nella voce più lunga dell'atto! Puoi sentire, cremo la distanza, con tutti! Puoi sentire, con te! Puoi sentire, v crossa, con te! Senti incont kle, mate! Senti incont me, mate! Alla nostra benziata! Il modo migliore per iniziare il 2018 con la musica, le serate quelle bellissime e se il 2018 comincia così devo dire che sarà un grande anno e vabbè dicono anche che DJ bagnata, DJ fortunata vi dico solo che mi hanno ribaltato un cocktail dentro la scarpa e ho suonato tutto il tempo con i cubetti di ghiaccio sul tallone Buon anno!